14.000 visitatori in 9 mesi per la mostra Turandò e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba, allestita al Museo del Tessuto. La maggioranza proviene dalla provincia di Prato, il 35% è dalla Toscana e il 10% sono visitatori stranieri. Numeri importanti anche per la visita online, con oltre 3.000 utenti collegati, 2.000 per gli eventi, sempre organizzati da remoto. Sono numeri molto importanti, sottolinea il presidente della Fondazione, Francesco Marini, composti principalmente da utenti singoli o da piccoli gruppi familiari. Bisogna considerare che è venuta a mancare quasi totalmente la presenza di gruppi organizzati a causa della pandemia. Cresce anche la vendita di biglietti online, arrivata al 7% del totale, mentre sono state 12 le attività per famiglie programmate, tra giugno e dicembre, per un totale di 177 partecipanti. E la conferma, commenta il direttore Filippo Guarini, che la mostra ha attirato principalmente un turismo di prossimità, premiando in modo particolare le province toscane. Infine c'è un altro risultato importante. Paola, la nipote di Chini, ha donato al museo anche una giacca da giorno, indossata durante i soggiorni in Thailandia nel 1913, per la decorazione della cupola del Palazzo Reale di Bangkok.